secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie bambini tristi e noia annoiati ciao bambini ciao ciao mi raccomando guardate bene le live bambini sono un po non partono bene le pubblicità quindi mi raccomando continuate a guardarle sempre correttamente per snapparmi altrimenti gallo suca sta minchia come ca buttana ma c'è tua nuova suca sta minchia suca gallo suca suca ma ti chiami gallo perché a tua madre gli piacciono gli uccelli dimmi un po il che sarebbe anche normale sarebbe anche uno due eccomi quasi uno due posto e kraft navrón easy no alleluia alleluia bloccata perché vincenzo e guarderai lento di benji adesso abbiamo il benji che secondo me è bello importante guardiamo che lenda attenzione perché le andano proprio su una duo mi sembra ed infatti è quello che oggi ha piaccinato ma 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 mia ha fatto una double di fiocina dove si sta chiedendo è abbastanza pianeggiante se poi le moving tirano a tiltate vien su un macello super 1312 sottolineato due mesi grazie dei due ciao 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 dopo te la saluto caro quello lo usi a 40 70 dalla distanza è una follia perché spara un colpo solo non spara una rosa e se bello preciso bello potente orca troia e preciso se miri se miri sì se no non puoi non puoi fare niente esatto e ce ne stiamo andando perché c'è la safe ok ma le hanno dato la cosa di salva al mondo no io non si ce l'ho solo al mondo ma è quello quello prima gratis e quello a gradi ciò cavo il cavaggio bello 4 allora questa volta ti do semplicemente un time out la prossima ti butto fuori e te lo dico ok questo è un tempo solo per la sala la prossima ti butto fuori allora non mi ricordo se c'era un un lama oppure oh ma non può essere così pino franco ma che schifo raga ma non può essere così pino franco andiamo 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 io sono freddissimo guys io sono freddi maaaax max clax 1970 ma mi scusi max ma cosa stavo facendo ma lei non può fare queste cose non lo può fare non lo può fare grazie di cuore max anche l'android non è da meno vediamo come si comporterà sono super curioso ragazzi sì il monarch outfit è già confermato lo sappiamo l'abbiamo già abbiamo già visto la cosa che oddio all of the discovery panels in nella posizione del punto 30 recently played by epics hate the world competitive epic picks most popular una merda ma non è anche da ma dove è andato chiuso 16 salvescio anguria madarino limone banana augurie 10 grazie dei 16 deji grazie oh 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 credo come cazzo devo andare no no fai da piano che cosa cazzo è questa cosa non lo so non lo so punti della top 25 eh mani eh vabbè quanti cazzo di persone mori eh è vero è per tenereci attivi cmq c'è così almeno abbiamo un po di movimento ah ah qua si stank fightando eh c'è la signorina taylor che eh io li ho G-G-G-G-G-G-G-GG-G-G-G-G-G-G-G devo vedere se a quest'爾a glieno prendo uno segno, Instant Instant detto comunque perché perché non c'è più perché hanno messo salvo al mondo direttamente da qui sopra sopra dove grazie nostri grazie mille bello mio mi sa che dobbiamo riavviare fuoco tutto bloccato niente tutto bloccato tutto bloccato non posso fare niente ma porco dio cominci a fare lei cominci a fare non si preoccupi perfetto perfetto io non ho neanche chiesto la middle east perché so che non le frega un cazzo no no per carità di dio lo so lo so ma middle east pen 90 ma gestisci tranquillo non ce la faccio a giocare nel mio modo viene no che c'entra lei ma anche io non manca ma anche con benji non giocherei in senso a perché è troppo toxic la situazione non mi piace proprio mi annoia e infatti oggi ho attaccato un pochettino più tardi per andare a diritto fino a dieci e mezzo